Presentato al Salone del Libro di Torino il progetto di Ateneo Transnational Appetites, realizzato dall'Università degli Studi, dal Festival alla Tavola degli Immigranti e dalla Consulta Femminile Regionale. Letterature e arte possono facilitare una presa di coscienza, favorire alleanze globali e simulare un attivismo ecologico che spesso vede protagoniste le donne. Al dibattito sono intervenute Daniela Fargione dell'Università degli Studi di Torino, Cinzia Pecchio, Presidente Consulta Femminile Regionale del Piemonte, la Vice Presidente del Consiglio Regionale e le autrici del concorso letterario nazionale Lingua Madre.